Questa mattina ci troviamo a Tavuglia, città natale di Valentino Rossi, che nella giornata di ieri in conferenza stampa ha dato l'addio alla MotoGP. Andiamo a sentire le emozioni e le sensazioni che hanno provato i tifosi durante l'addio di Valentino Rossi dato proprio ieri in Austria. Sicuramente un tuffo al cuore, diciamo, perché dopo anni che uno lo segue la MotoGP non sarà più la stessa, darà le stesse sensazioni perché vedere lui era tutta un'altra cosa sicuramente. Qual è il ricordo più bello che hai di Vale? Direi quando ha fatto le battaglie storiche con Stoner, ma quasi tutte le volte che si è in Caponito con qualche avversario, quindi Stoner partendo da Biagi fino agli ultimi con Marquez, comunque è sempre spettacolare. Speriamo di vedere il fratello che sia il seguito di Valentino, speriamo, quello sicuramente, però diciamo che sì, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo così all'improvviso la comunicazione che avrebbe smesso. Tutti speravamo che continuasse almeno un altro anno, chissà, però niente, dai, ci sta. Diciamo che ci ha fatto divertire per un bel po' di tempo. Se lo meritava secondo te il decimo titolo come lui stesso ha detto ieri? Assolutamente sì, se lo meritava come, purtroppo è stato anche sfortunato a non raggiungerlo secondo me, però niente, va bene, nove sono tantissimi e va bene così, dai, ci ha fatto divertire ugualmente. Un grande dispiacere perché è stato un grande campione e ha dato tanto e darà ancora tanto, anche comunque per me se non correrà più, sicuramente ci è venuto, dai, dispiace, è un grande campione, però ha fatto comunque sia la sua strada e ha dato, ripeto, ha dato tantissimo. Grande dispiacere perché è un campione così, dopo tutte le emozioni che ha dato in questi anni, sarà difficile anche per la MotoGP ricompensarle, però speriamo nei prossimi giovani che rinasca un altro Valentino. Lo ricordo più bello penso quando ho vinto l'ultimo mondiale contro Lorenzo, anche quando ho fatto Catalunya con il sorpasso, o anche quando ho fatto le lotte con Stoner, però ne ho tanti, anche quando ho vinto l'ultima volta a Assen, è stato bellissimo. Mi sapevo che si è rinforzato con il racconto, ma ancora, quando ho detto, ero un po' sbagliato, un po' sbagliato, perché non lo vedo più in live, in azione, magari con i cari, ma non con la MotoGP, che è la mia passione. Abbiamo intervistato anche il sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci, che ai nostri microfoni, oltre ad aver raccontato le sue emozioni e le sue sensazioni dopo l'addio di Valentino Rossi nella giornata di ieri al motociclismo, ha anche raccontato di come nei prossimi mesi probabilmente ci sarà un evento organizzato in suo onore al mito di Tavuglia, Valentino Rossi. Sicuramente studieremo qualcosa di ufficiale, non la definirei una festa, un evento, perché viviamo l'epoca dell'emergenza sanitaria, quindi non possiamo pensare di fare feste come si facevano in passato. Cercheremo di ufficializzare un momento importante di riconoscimento nei suoi confronti, questo sicuramente. Ancora dobbiamo elaborare bene, penso, metabolizzare, anche se era un momento che ci aspettavamo. Prima o poi sarebbe arrivato e come vale per lui, vale per noi, magari avremmo voluto che corresse altri 20-25 anni, come ha detto lui ieri, e sarebbe stato chiaramente bello ma impossibile. Possiamo soltanto essergli riconoscenti per tutto quello che ha fatto per il nostro territorio, per il nostro comune, portando il nome di Tavuglia in tutto il mondo. Quindi abbiamo avuto una promozione, un marketing territoriale notevole, importante e lui è una leggenda che ha fatto la storia del motociclismo e la storia anche del nostro paese. Moltissime persone, come avviene da tantissimi anni, continueranno a venire a vedere dove lui vive, dove lui ha vissuto e cercheremo di rendere accogliente sempre di più questo luogo, anche riconoscendo a lui il merito.